Prorogati i collegamenti tra Agropoli e la costiera amalfitana, oltre mille residenti hanno soffrito della promozione per viaggiare a costi ridotti verso Amalfi e Positano. I collegamenti via mare dal Cilento alla costiera amalfitana proseguiranno fino al prossimo 30 settembre. E' quanto ha deciso la Coastline SPA in accordo con l'amministrazione comunale di Agropoli alla luce dell'ottimo riscontro della promozione lanciata a partire dallo scorso 6 settembre in favore dei residenti. Questi ultimi avevano la possibilità di usufruire del servizio di collegamento via mare verso Positano e Amalfi ad un prezzo scontato, ovvero 4,70 euro a tratta. L'iniziativa ha riscosso grandissimo successo, tant'è che in nove giorni sono stati oltre mille i biglietti venduti. Per i residenti quindi una nuova possibilità di raggiungere e visitare Amalfi e Positano a prezzi ridotti. Il servizio attivo dal lunedì al venerdì sarà comunque aperto a tutti. La partenza da Agropoli è alle ore 8 e 55 con arrivo ad Amalfi alle ore 10 e 35 e a Positano alle ore 10 e 55. Il ritorno è con partenza da Positano alle ore 17 e da Amalfi alle ore 17 e 30 con arrivo ad Agropoli alle ore 19 e 10. Visto l'ottimo riscontro dell'iniziativa spiegato il sindaco Coppola, l'armatori ha scelto di proseguire con le corse via mare fino alla fine del mese. I cittadini di Agropoli avranno così la possibilità di trascorrere una giornata di spensieratezza e relax in una delle zone più belle della nostra provincia, un'opportunità che verrà offerta anche a quanti sono in vacanza nella nostra città o nei centri limitrofi.